Ieri sera, non le chiedo di rispondere a De Laurentiis, assolutamente, però De Laurentiis ha detto una cosa, per Napoli servirebbe un manager che non si debba confrontare col Consiglio Comunale. Quindi, secondo De Laurentiis, oggi la sponda democratica del Consiglio Comunale, che possa essere, non serve, c'è più un ostacolo allo sviluppo di una città. Lei cosa ne pensa? Gli sindaci non hanno... Una richiesta di replica, quindi è della premessa... Non ho più commentare che rispondere, sono... Io vorrei augurare Buon Natale al Presidente Aurelio De Laurentiis, che possa passare un Natale sereno con tutta la sua famiglia e che possa così maturare le migliori decisioni nell'interesse della società, dei tifosi e della squadra per un grande Napoli che tutti quanti ovviamente vogliamo e che sosterremo.